Va beh, iniziamo a guardare due cose Sono rimasto solo io a essere così sensibile Non so che c***o dirvi XXX è morto, cosa ne pensi? Ti dico la nuda e cruda verità Come lo feci col cacciatore Non me ne frega un c***o Ho creato il meme che Lollo Lacustre non esce di casa Ma vi voglio far vedere che cosa succede Quando esco da queste quattro mura No, però ragazzi, cioè, non è veramente possibile Che io esco di casa A farmi un giro già non esco mai E mi devo beccare questo Che si sta mangiando gli umidi della casa del mio vicino Un cinghialone Ti spiace Ma bro, ma sei pazzo Pensa pure di fare l'educato mettendosi sul lato della strada Dai, sono in ritardo Non lo scherza, ma se è uno di questi te carica ti disdruma È il primo Si ritorna a PC Si brucia la lampadina Si sono fulminate le lampadine E il PC? No, ti prego Si è bruciato il PC Non si accende No, Ted Ma tu la sai fare una carbonara da paura? No Ma basta taggami sotto le robe dei Kasumi Basta Che poi devo andare a strizzare quei grossi parmalat Che cazzo dice? Ma non è che me l'abbiamo perso Gritty Grimaldo Skibidi Ronaldo Skibidi Ronaldo Skibidi Garnaccio Ok Rushford Skibidi Rashford Skibidi Rashford Neymar Timer Skibidi Plimer Palmer Skibidi Yamal Skibidi 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 Barcola Non li ho presi tutti Vabbè ragazzi Sono brain rot Completamente Cos'è sta roba? Tion sucks Mi sa Mi spara Mi spara in alto Ma ragazzi Ma altrimenti stanno uscendo dei ruttoni Minosense No sei un coglione No 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 non fare così Cos'è? Non Attaccante Davanti Fa figo maio Porta Zerbino Cosa? Metti sulla Capelli Crostata Ma che sguardo di te Ma che dici Cosa? È? Di Sfera Vetro Maga Palla Palla Allona Ma che cazzo Are you ready? One Two Three Allora Quando viene Guarda che drip Finalmente Con un abito decente E quando mi ricontatta Totorina Per fare un'altra strage Sinceramente What? Sì Bar Pronto? Che ho visto Non sei iscritto ancora al canale E non provare a schifarmi Devi iscriverti E ricordati Di bere 10 litri d'acqua al giorno Così muo E io godo Dunque raga Immaginatevi veramente Joker che su una classe Asi Cioè lo beccate dentro sto Mercedes Che si incula la vostra ragazza Cioè come reagireste? Sarebbe un sogno Mi godo la scena Riderei Gli sparo Pippo Vabbè sei siciliano Ci sta Mi unisco Ma da Ragazzi Non disturbate sto Sto Io lo devo mandare Aspetta Io lo mando Sto Ragazzi Perdonate Io lo devo repubblicare Subito Oh i miei repost Sono clamorosi Non so se ce l'avete mai fatto caso Senta ma tu vuoi più bene a me O a Sofì Il cocodillo Il cocodillo Tu vuoi più bene a me O a Sofì Il cocodillo Ah il cocodrillo Cioè i piedini dolci In un'altra vita io e ti avremmo potuto fare danni seri Sì è possibile Cosa è stato Ragazzi è assurdo Ma come hanno fatto a farlo così bene Con me non c'è soluzione Mi vesto da donna Ma 20 28 secondi Ci manco io quando Te hai passato a città Ma Mike Non so cosa da dire No Si sono sbattuti No frate 45 Forza Forza Napoli Forza Napoli Germania è un'altra roba Cioè Non l'avete mai visto Young Miles Che da Grimbaud fa Suono del Dell'emote di Clash Royale Hai sentito di Clash Royale? Sì Ma quale aspetta Che personaggio è? Non devi ridere però No ma dimmi qual è Qual è Tu ascolta il basso Non ridere E' uguale E' uguale E' così sono i barbari No no E' l'emoji L'emoji del barbaro Che sorride Ragazzi è identico Mio fratello Young Miles Porco Cristo del Lidl A 6 e 4 soldi Io questo non lo posso mangiare Winnie the Pooh Sotto sfratto Papà Francesco Versione ebrea Vita incrostate Palle lisce Sperma sul banco Sette e mezzo Aia Ragazzi non erano così La volta le Le recensioni del Lidl No No Sei un coglione Cioè Era ovvio Era palese Cos'è il sole? Aia Ma quest'altro Che fine ha fatto Ragazzi E' molto meglio Quell'opera Fatta Con impegno E con merda Piuttosto che Quelle schizzate di merda Che spacciate per arte Ma in realtà Non vi impegnate Più Non vi impegnate Allora E poi ragazzi Io non so se Avete visto Ma quella lì Come si chiama? Tipo 100 meters Poland Tipo Ci sarà Uscirà Eccola Lei ragazzi Mi sa che Ha accettato L'invito di speed Per fare una gara Di velocità Nei 100 metri In live Questa qui La Vabbè Tutti quelli che Tutti stanno dicendo Che è una ficca assurda Arrivò 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 Birra Arrivò Birra 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 Senti Senti Tutta la birra Nelle orecchie Mi sento come Sott'acqua Che fastidio Saluta l'altro Quattro Ragazzi Ieri per la mia prima volta Ho preso un Moscomule Mi hanno messo dentro Un cetriolo Ieri mi hanno messo dentro Un cetriolo Nel Moscomule Cioè bro Non riesco proprio a capire Meglio nel drink Che nel culo No Non sono d'accordo Sono gay Sono gay Mi piace il cazzo Ma questa clip Quante volte è stata Non mi interessa delle donne Voglio rimanere Con i maschi A vita Ragazzi Sì E vabbè Cosa c'è di male Avete qualche problema Con me Non potete Visto che Anna Pepe Ha ripostato Sto tiktok Sì è italiana Comunque Le mie orecchie Ha un numero Da 1 a 10 5 5 Complimenti Appena vinto Un paio di Airpods Pro Oh Grazie Io le mie le ho perse Il suo giorno fortunato Questi sono per lei Buona giornata Se le goda signora Grazie mille Grazie Grazie Se fate uscire il mostro che è in me Non se ne salverà neanche uno Io sarei più un leone che un lupo Ma non hanno il vero di cosa posso fare Tutti pensano che io sia la stupita del gruppo Ma in verità so tutto Limitizzo fra loro per manipolarli Ma non sapranno mai chi sono veramente Prima o poi farò sire tutto Va bene E come dice sempre Dada Quando va sotto i mille abbonati E' fisiologico Spera la pandemia Oh frog splash Eccolo L'abbiamo ripostato perché lei l'hanno buttato giù Culo La galera te la mette in culo A chi si vede se la vuole in culo A chi mi le dici di un culo Ma sempre in culo tu la prendi in culo Che sei una pussi di merda Ok Io sto morto per prima Ma è neve Let's go kids Let's go kids Farò sempre ridere Quando sburi tutti i smerti Siete stati pensi solo agli uccelli Siete stati rapischi e pischelli Con le ducce sulle miele lichelle No Lascia like e lascia un commento Se no ti arriva un destro sotto il mento Reactions e gaming Puoi trovare di tutto Non troverai mai un edit brutto Grazie a tutti